Parleremo dell'epopea di Zemanlandia, del lavoro svolto da Zeman in quel di Foggia dal 90 al 94 il tecnico boemo che ha fatto grandissime cose in terra pugliese e che è tornato recentemente in auge sulla panchina del Pescara Pescara che vola, a ve le spiegate, verso la serie A e per questo io do la linea a Remo De Paolis e alla regia ci andiamo a vedere il filmato preparato da Antonio Cupparo sul Foggia di Zeman poi ovviamente ne parleremo anche con Biagio Danelli che era presente allo Zaccheria in quegli anni lì quindi a questo punto il Foggia di Zeman Baby sneezes, mommy pleases, daddy breezes in So good on paper So romantic But so bewildering I know nothing stays the same But if you're willing to play the game It's coming around again So don't mind if I fall apart There's more room in a broken heart You pay the closer You fix the toaster You kiss the host goodbye You kiss the host goodbye You break the window You break the window Burn the surface Scream the lullaby I know nothing stays the same I know nothing stays the same But if you're willing to play the game It's coming around again So don't mind if I fall apart So don't mind if I fall apart There's more room in a broken heart There's more room in a broken heart And I believe in love But what else can I do But what else can I do I'm so in love with you I know nothing stays the same But if you're willing to play the game It will be coming around again It will be coming around again I know nothing stays the same I know nothing stays the same But if you're willing to play the game It will be coming around again I will be coming around again Nothing stays the same But if you're willing to play the game entriamo in diretta dopo aver visto queste bellissime immagini che probabilmente non so se hanno fatto commuovere il viaggio d'anelli che ha vissuto allo no mi avevi detto se mi fai vedere queste immagini del foggia e zeman io mi commuovo perché da bambino andava allo stadio con mio padre allo zaccaria peraltro spieghiamo perché zaccaria era un cestista morto durante la guerra greco albanese di foggia da cui lo stadio ha preso il nome ma io vengo subito in viaggio perché mi stavi raccontando in privato delle cose che ti raccontava tuo padre sugli allegamenti del foggia di zeman fortunatamente io sono stato io ho vissuto quasi tutto grazie a mio padre perché innanzitutto mi ha inculcato questa passione per il calcio e per il foggia perché essendo pugliese ma la cosa bella è che ho assistito due tre allenamenti e sono rimasto veramente esterefatto perché vedevo zeman tranquillamente fumarsi la sigaretta e vedevo questi poveri giocatori con dei saccoli di farina sulla schiena che saltavano le gradinate dello stadio per me era una cosa illogica ma questo è un massacchio dopo mi faceva fare chilometri e chilometri di corsa con i pesi e i polpacci e poi li ho fatto rifare nuovamente i sacchi dopo un'ora di stretching cioè poi ecco perché in campo volavano una cosa una cosa del genere l'ho vista fare anche in uno speciale a giampiero ventura ai tempi del cagliari non mi vorrei sbagliare però alcuni anni fa stavo vedendo sulle mettette satellitari della sardegna gli allenamenti del cagliari e anche giampiero ventura adottava questa tipologia di allenamento è possibile perché anche il bari degli ultimi anni a corso rimanendo sempre in puglia altre emozioni legate a quel foggia lì giocatori dovuto all'allenamento c'era anche il foggia la parte iniziale del campionato perdeva colpi ovunque poi i giocatori una volta che raggiungevano quella forma fisica perché poi è questo tipico di zeman la squadra prima nel calare poi le squadre di zeman passano sempre in svantaggio cioè se non so se avete fatto caso è bello perché c'è sempre questa goleata però poi cosa succedeva che al passare due o tre mesi il foggia cresceva vinceva con la squadra importante e poi perdeva 30 a 0 con la squadretta di provincia e questa è la cosa bella del foggia e quindi un ricordo splendido a roma è successo un po al contrario a dirlo a vincere due anni alla roma la roma partiva alla grande poi arrivava il calo era tra dicembre e febbraio la parte diciamo invernale laddove anche i campi erano troppo pesanti e per il gioco di zeman che ha bisogno di grande rapidità e velocità infatti lui è sempre pignolo sulla praticità del campo infatti se il campo non è come dice lui i ragazzi non gioca una cosa assurda pure alla sosta invernale non mi ricordo parlare alla sosta invernale perché d'estate si gioca meglio mi ricordavo anche questa cosa qui rimando da te Alberto perché dovevo iniziare il giro di opinioni mi era sembrato doveroso iniziare da viaggio perché ha vissuto l'epopea di quel foggia lì anche se era molto piccolo quindi a te un'impressione su quel foggia lì anche tu che l'hai vissuto che lo ricordi bene ovviamente non da tifoso del foggia l'appassione di calcio perché poi quel foggia lì ricordiamo l'ha fatto appassionare tutti gli appassionati di calcio accordi più e in un certo senso zeman è stato un rivoluzionario cioè in chiave tecnico tattica sotto tanti aspetti sì assolutamente è stata è stata una bellissima ma bellissimo ciclo quello che dice man foggia tra l'altro pensa io l'imperio come lo conoscevo poco poi quando ho cominciato a scoprirlo mi sono talmente appassionato che dicevo a casa oggi quando c'è a roma foggia oggi non vado allo stavano oggi vado a vedere il foggio di zeman perché era talmente bello ed erano poi sempre belle partite anche un mi ricordo ad esempio un roma foggia con mazzone finito 0 a 0 dove praticamente ci furono solo due tiri in porta eppure per me fu una bella partita perché fuono due squadre che si annullarono però che si che giocarono alla morte per tutti i 90 minuti poi la cosa bella mi ricordo nella stagione 92 93 dove lui praticamente anche il presidente ha venduto tutta la squadra no signore alla lazio e mi ricordo benissimo che il roma foggia si giocò se non sbaglio la seconda di campionato e vedevo comunque questi ragazzi giovani perché erano praticamente quasi tutti sconosciuti c'era di viaggio giovane giovane c'era viaggioni mi ricordo e vedevo questi ragazzi e giovannino stroppa si bravo giovannino stroppa e la roma vinse 3 a 1 però disse all'amico che stava con me questa è una squadra che si salverà perché vedo una squadra vedo dei giocatori che stanno piano piano entrato nei meccanismi di zeman e così fu parco battistini beh i ricordi soprattutto legati alla roma alla roma di zeman sono ancora vivi nonostante siano passati 12 13 anni all'epoca non facevo il giornalista tifoso abbonato allo stadio credo di aver visto un calcio forse come mai anche nel passato forse la roma di ericsson si avvicinava un po come spettacolo in campo partite vinte davvero in maniera clamorosa parlo della roma ovviamente no per carità semplicemente un po riferimento alla squadra giallorossa con un organico che no era probabilmente anche inferiore all'attuale roma di luise riche ottenne un quarto ed un quinto posto il quinto posto l'anno successivo anche frutto di una serie di errori arbitrali chiamiamo gli errori insomma non andiamo al di là che li negarono la champions league probabilmente meritata l'ho intervistato quattro anni fa con un'altra emittente vostra concorrente europa tv dopo l'esonero con l'avellino era un tecnico che era stato praticamente allontanato un po dal sistema calcistico dal cosiddetto sistema ma oggi questo lo dobbiamo dire insomma e sono molto contento che a distanza di quattro anni si sta riprendendo delle rivincite che che merita perché è un tecnico che è stato sicuramente insieme a sacchi sicuramente il più grosso innovatore negli ultimi 20 anni ed è uno dei pochissimi ad aver avvicinato tanta gente allo stadio e ce ne sarebbe bisogno di tanti tanti zeeman anche oggi come oggi visto questa crisi proprio di spettatori e di paganti nei vari campi di calcio io credo che sia ben augurante insomma quello che sta facendo a pescara e quello che ci possiamo che possiamo ospicare magari vedere zeman anche in palcoscenici calcistici più importanti perché no anche in un futuro spero non troppo lontano magari anche ancora una volta lo stadio olimpico sempre sulla sponda gelorossa intanto marco mattisini si era colacionizzato no 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 hai detto cose importanti ma i tempi si stavano dilungando si parla anche di zeeman in chiave inter tra i papabili per ereditare la panchina nera azzurra da claudio ragneri vado da alessio nardo che non ha espresso la sua opinione su zeeman in generale su quel foggia lì ma io il foggia non posso ricordarmelo perché ero veramente piccolo piccolo e mi ricordo la prima scuola di zeeman che ricorda la lazio quindi per me cioè sono cresciuto con zeeman che era il mio nemico calcistico io ho mazzone dalla mia parte e poi diventato un amico ma credo che zeeman sia forse l'unico tecnico non aver vinto nulla che poi riscuotere così tanti consensi è diventato quasi un mito a livello calcistico qui a roma sponda giallorossa la gente gli vuole bene ma ha detto quelle parti sia lazio che Roma esatto ed è uno che ha allenato a lazio e ha perso quattro derby in un anno e la gente gli vuole bene questo è testimonianza di quanto questo ha fatto e li perse tutti allo stesso modo io credo che voglio spessare una mancia in particolare a forma di zeeman io penso che molto dello scudetto del 2001 della roma sia di zeeman perché ci sono una serie di giocatori di quella roma lì che nei due anni precedenti all'attivo di capello zeeman ha preso sotto la sua questa samuel un acquisto masi e del vecchio e saperemo che la cosa sono sui acquisti suoi e io ovviamente totti totti la maturazione calcistica di totti totti diventa un grande giocatore con zeeman insomma anche il tommasi del vecchio sono esplosi con zeeman di francesca riguardo in nazionale addirittura antonio cupano tu quella è vissuto in chiave la chiave la passione vissuto però lui come ben detto parte della roma abbiamo visto benissimo partire ma anche abbastanza bene floppy mi ricordo un l'assimente su 4 a 0 settimana dopo un padovalasso 2 a 0 c'è da stelle a stalle questo è zero o lo ami o lodi infatti per me sì mi ricordo padovalasso era un pre derby che aveva settimana dopo cibo un l'azione di panoram blau vince sì bravo ma che memoria mi ricordo fatti delle pre derby settimana dopo l'ora di lazio vinse per 2 a 0 con di bergoti e signore su rigore e lì per fortuna lazio si riprese e ha giocato quasi di rimessa da zeeman si infatti infatti lo stavo dicendo mi ricorda molto la squadra si fu io e sul lazio lo segnò negli ultimi minuti cambiando mettendo venturin in mezzo al campo levando un attaccante e fece un 4 4 e vinse 3 a 0 a torino quali vento degli ultimi 20 minuti cosa che poi da fine i giornali massuti di scalpore ragione zeman cambia zeman cambia c'era nazionale che mi ricordo con la roma riclamava l'intervento voglio intervenire su zeman catalizza l'attenzione di tutti e non valendo le competenze diversi se le mani e ragnieri io mi prendo tutta la vita zeman per un miliardo di modi ma possiamo dire che ci sono delle degli aspetti perché ma sta star a lazio prepara un certo tipo di squadra poi arriva ericsson e vince mi sembra un po' per certi versi che la ragnieri zeman